ragazzi e ragazzi ciao e benvenuti su questo nuovo video di crypto investing guide niente ci troviamo quindi ad aggiornare la chiusura settimanale e soprattutto anche la fine del mese di gennaio quindi potremmo iniziare con un mese di febbraio magari non dico potrebbe essere sicuramente positivo ma la vedo difficile andare a rompere questi punti d'inizio ma andiamo adesso ad analizzare dal punto di vista dell'analisi tecnica quello che potrebbe accadere direttamente con la situazione attuale di recupero del prezzo di bitcoin ma prima di iniziare a fare questo vi invito ad iscrivervi al canale di crypto investing guide attivare la campanellina per ricevere gli aggiornamenti futuri naturalmente a lasciare un like se questo naturalmente risulta di vostro interesse e naturalmente vi invito e vi sprono a farlo perché solo in questo modo grazie naturalmente o comunque a causa dell'algoritmo youtube il canale può prendere naturalmente più visione e quindi aiutarmi in questo ma iniziamo subito quindi parlando del grafico di prezzo di bitcoin che attualmente recupera dal punto di minimo dei 38 mila dollari di una settimana fa praticamente in corrispondenza del 23 di gennaio attualmente al giorno 28 di gennaio ci troviamo a 42.272 se dovessimo andare a visualizzare meglio perché magari non si riesce a capire un po il dettaglio di questo punto di minimo il prezzo più minimo prezzo minimo che ha toccato in modo relativo all'interno di questo periodo possiamo guardarlo naturalmente a livello settimanale ed ecco che appare naturalmente chiave una candela importante una candela che va vedete a toccare una sorta di conformazione che proprio diciamo che è positiva ha andato a perdere poi ha recuperato ma si è mantenuta al di sotto in questa situazione guardando con l'occhio di fibonacci ossia utilizzando proprio il ritracciamento quindi prendendo praticamente un valore di punto di minimo che vi mostro subito quindi prendiamo praticamente il valore del punto di minimo relativo al che possiamo visualizzare andiamo a tirare il punto di massimo a intorno ai 49.000 dollari vedete che il scusate sì effettivamente non si vede molto bene a causa di tutti i tratteggi che ci sono però se notiamo lo 0.382 che serve il 38% di fibonacci quindi un valore comunque aureo abbastanza diciamo corretto cioè praticamente rientriamo assolutamente all'interno di un periodo cioè non è andato giù oltre il 38% di fibonacci quindi sicuramente è un valore sano di discesa dei 49.000 verso i 38.000 vedete quanto è ampia la forchetta partendo da un massimo dei 49.000 è andata giù fino a 38.000 per alcuni potrebbe essere una perdita notevole in realtà questo ritracciamento è fisiologico e anche diciamo anche sano diciamo quindi che la situazione potrebbe essere positiva per i prezzi bitcoin quindi vediamo se chiuderà a 42.000 entro la serata del mese praticamente del mese di gennaio e quindi a ridosso della chiusura del mese di gennaio vediamo se potrà ritornare intorno ai 44.000 diciamo che il situazione riguardando diciamo con una situazione di grafico a candela giornaliera diciamo potremmo anche chiudere il valore di fibonacci che dà un po fastidio vedete chiudiamolo ecco almeno è più pulito notiamo che se il prezzo dei 42.000 dovesse andare ad entrare di nuovo in questo range tra i 45.700 euro e 44.000 quindi per esempio superare questo ostacolo questa linea di valore di resistenza allora potremmo veramente parlare di una situazione positiva che potrebbe portare il prezzo anche a di nuovo ritestare ribadisco che la situazione del 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 grafico di fibonacci che abbiamo praticamente poc'anzi preso per per poter visualizzare questa situazione vediamo ritiro di nuovo le linee dal minimo al massimo fino ai 49.000 diciamo che se vogliamo che questo potenziale valore di bull flag che si potrebbe conformare dopo il recupero che ha avuto in questo istante per avere la certezza e la conferma di poter ripartire una tendenza a rialzo deve essere violato quindi deve essere rotto il valore del precedente massimo dei 49.000 dollari solo in questo caso avremo la conferma che questo ribasso e poi adesso recupero è stato corretto quindi a livello statistico che abbiamo azzeccato diciamo la previsione a livello di conformazione del grafico andiamo quindi a vedere un attimo la situazione analitica per quanto riguarda il crypto quant andiamo a vedere naturalmente l'exchange flusso e soprattutto quello netto per tutte le bitcoin detenuti all'interno di tutti gli exchange vediamo che a livello spot quindi stiamo parlando comunque di bitcoin non di etf lo andremo a vedere in un grafico per analizzare la situazione di cosa stia succedendo il prezzo comunque è sceso rispetto ai suoi massimi e la situazione comunque sia vedete che non è cambiata poi di tanto nei flussi di entrate di uscita sono analoghi comunque sempre costante non ci sono delle ingresso delle uscite molto elevate per quanto riguarda il tiro ma la situazione anch'essa abbastanza stabile tra l'entrata e l'uscita il prezzo adesso si sta muovendo lateralmente da due giorni a questa parte in modo laterale per quanto invece concerne le stable coin tutti gli exchange detenuti vedete come a livello di exchange ci sono stati degli ingressi di dollari che potrebbero servire soprattutto magari nel settore dei derivati per determinati scopi se andiamo infatti a vedere derivati come e tipologia di exchange vediamo che questa quantità di flusso dei 30 38 milioni di dollari sono entrati 38 si sono 38 milioni e di poca roba e invece se dovessimo andare a visualizzare solo gli spot come exchange vediamo che la quantità è praticamente risolta qui non si muove nulla a livello di dati di stable coin detenuti in exchange quasi tutto derivati stessa analogia potremmo farla anche sul bitcoin se dovessimo andare a selezionare i derivati vedete che la situazione praticamente piatta per questo non c'è anche tanto movimento è lo stesso di casi per quanto riguarda la parte spot c'è una giornata dove c'è un'entrata di 3394 bitcoin poi nelle altre giornate ci sono 1500 in uscita e 952 in uscita quindi praticamente il bilancio è di circa 1.000 2.500 contro l'entrata dell'ultima settimana di 3.300 quindi soltanto 1.000 bitcoin in ingresso a livello spot poca roba vogliamo visualizzare anche la differenza di tutti gli exchange per quanto concerne l'entrata di spot di ethereum vedete come l'ingresso delle entrate sono ridicole praticamente non le guardo neanche vedete com'è molto basso e tutto quanto si concentra vediamo nel mercato ethereum derivati l'ingresso il 25 di gennaio di 98 mila ethereum usciti successivamente nei tre giorni 2002 nome di 7.000 28 mila 56 mila praticamente questa candela di entrata è uguale alle tre giornate successive di uscita quindi praticamente stabilità stabilità che possiamo andare a visualizzare un po la situazione odn di bitcoin che mantiene vedete una stable valore stabile di market cap totale complessivo di 1.63 trillion dollar la dominance di bitcoin a 51 ethereum scala un pochino a 16.8 venendo da 17.3 degli ultimi tre giorni prima di questi ingressi e uscite che abbiamo visualizzato mantiene naturalmente la sempre la prima posizione come la seconda di ethereum mentre la quarta posizione stabile per bnb scende un pochino e paga le conseguenze di movimenti diciamo di utilizzo di solana che ha la quinta posizione comunque diciamo che solana è quella che è messa meglio a modo di vista di volatilità l'andremo a vedere per naturalmente completare l'analisi del del grafico vediamo che la decima posizione c'è dogecoin avalanche alla nona posizione ottava posizione cardano e dollaro circola la settima con ripo sempre stabile all'interno delle prime dieci posizioni dal sito etf db database degli etf.com notiamo che c'è in a livello di currency come filtro notiamo che grayscale domina il settore con un valore total asset di 20.220 di dollari come valore e uno share di volume di 9.722.444 e naturalmente c'è presente live share bitcoin alla terza posizione pro share bitcoin fidelity alla quarta e arc 21 share arc b come ticker di simbolo alla quinta posizione poi ce ne sono naturalmente altri ma comunque invece per esempio è presente qui alla nonna posizione chiude alla decima invece currency share euro trust bitcoin comunque è molto presente diciamo in questo elenco di questo screening di betta financial betta financial fai quindi questa è una situazione naturalmente che potete analizzare vi metterò comunque questo screening in descrizione nel video per quanto invece concerne l'analisi che potremmo verificare anche su ethereum notiamo naturalmente che la situazione vediamola anche a livello di settimanale perché la candela seppur rossa mostra naturalmente un valore inferiore ma non inferiore rispetto al relativo ma superiore vediamo se questo rispetto a bitcoin è un valore che può destare una continuazione di discesa verso il valore dei 1.986 dollari nell'attesa naturalmente dell'approvazione degli etf per ethereum ma la situazione diciamo che comunque al di sopra a livello di vedete settimanale sopra la media mobile che viene individuata in giallo quindi non ci dovrebbero essere molti problemi anzi attendiamo eventuale rottura sotto il 2115 che sto indicando in tratteggio in questo momento vedete come potrebbe essere a livello di settimanale importante andare a posizionarsi prima qui e poi successivamente qua in viola che lo avevo già individuato il 1990 se dovesse rompere questi due valori sicuramente ci ritroveremo di nuovo all'interno di un canale tra al di sotto dei 2000 o comunque compreso tra i 1.600 dollari vedete qua andiamola anche ad individuare così vediamo subito qual è il range di intorno ai 1.500 e 1.600 dollari quindi dobbiamo stare attenti che non vada al di sotto dei 2.000 dollari mantenere al di sopra dei 2.000 dollari potrebbe comunque consentire un ripristino del prezzo di ethereum ma vediamo naturalmente come chiuderà alla fine di questo mese per poi analizzare il trend del prezzo diciamo che mantenere questo trend di prezzo intorno ai 2.268 e vedere anche la conformazione della candela è molto sicuramente importante se lo dovessimo visualizzare anche a candela giornaliera notiamo che comunque il prezzo si sta muovendo sempre in linea di rialzo ma comunque il trend è molto più scemato si sta parlando comunque di un movimento molto laterale a partire dal 10 di novembre 2023 con una tendenza al rialzo vediamo naturalmente come si muoverà e come vedremo la situazione poi andiamo a vedere la dominance che cala di ethereum vedete come discende a 17.25 quindi la situazione di discesa invece quella di bitcoin sta risalendo a 52.4 venendo da un minimo che è stato dei 50.5 quindi sicuramente la dominance di bitcoin ne sta pagando positivamente lo stesso discorso relativo alla dominance lo possiamo visualizzare anche contro ethereum bitcoin e ti naturalmente perde perdendo potenza la dominance di ethereum rispetto alla dominance di bitcoin notiamo proprio come il prezzo diciamo che possono essere degli strumenti per visualizzare come si sta muovendo ethereum contro bitcoin e infatti il prezzo di ethereum o il valore di ethereum contro bitcoin sta scendendo concetto analogo per quanto riguarda bnb contro il dollaro vedete come il suo prezzo sicuramente stabile all'intorno del range tra i 30 332 come punto di picco che possiamo anche spostare a 338 è un punto di minimo che possiamo individuare in questo valore di supporto intorno ai 287 dollari sta muovendo praticamente laterale guardandolo su candela naturalmente giornaliera se dovessimo andare a visualizzare il ritracciamento di fibonacci partendo dal minimo relativo fino a un massimo dei 338 dollari vedete come il prezzo non è andato giù oltre lo 0 38 2 di fibonacci quindi 38 per cento di fibonacci così come il corrispettivo a 0 6 1 8 inverso e opposto ma comunque sempre nel range di fibonacci sono il campo in cui si considera ancora valido e positivo sano il valore di eventuale ritracciamento di fibonacci sicuramente 38 è ancora meglio del 3 del 61 8 quindi il 38 per cento di fibonacci sta dicendo che qui ha toccato il minimo e sta adesso risalendo per andare eventualmente a rompere il valore dei 338 se questo dovesse realizzarsi cioè rompere il precedente massimo allora sarà validato il ripristino quello che stiamo parlando adesso di un potenziale bull flag è una potenziale discorso di ripristino rialzista e di andare a rompere i successivi valori di massimi che andremo naturalmente ad analizzare come potete ben osservare questi valori sono molto forti perché corrispondono anche a dei picchi anche precedenti quindi dobbiamo andare ad analizzare naturalmente i precedenti massimi e vedere se riescirà a raggiungere a superare ma questo naturalmente è una cosa abbastanza dura e hard diciamo da effettuare chiudiamo naturalmente l'analisi con solana solana almeno contro bitcoin a prescindere dal prezzo che attualmente come potete osservare l'abbiamo già visualizzato di solana e di 97.13 dollari guardiamo tramite bitcoin perché almeno vediamo un discorso puro della situazione vedete come il prezzo sta salendo dopo la discesa che ha toccato gli 00,002 di bitcoin è risalito stiamo guardando la candela giornaliera quindi considerate due settimane il 17 gennaio è salita 0,0023 9 quindi 22.4 quasi 22.4 poi ridisceso di nuovo intorno a questo valore di supporto 0,00205 e adesso si trova a 0,0022 quasi 0,03 23 scusate 0,0023 in questo frangente naturalmente stesso discorso vedete come da una candela di time frame settimanale andiamo a prendere il discorso relativo a fibonacci e come potete osservare anche in questa circostanza chiusura mensile le candele mostrano di non avere ancora rotto lo 0,382 quindi 38 per cento della posizione di inversione delle proporzioni auree di fibonacci quindi sicuramente sano è il valore del ritracciamento che partendo da 0,003 quasi 29 a 0,002 quasi netto è un valore sano di ritracciamento che può permettere un recupero contro bitcoin se naturalmente verrà validato dalla rottura del precedente massimo relativo del periodo di diciamo del mese quindi di questa candela che veniva chiusa 25 di dicembre 2023 se questa dovesse essere rotta allora potremmo parlare e visualizzare andare a parlare se andrà a rompere i successivi precedenti massima 0,004 bitcoin e anche i precedenti 0,004 netti questi due anziché possiamo andarli a mettere così lo andiamo a visualizzare come punto di picco anche lo spike mettiamolo anche lì comunque sia dobbiamo andare ad analizzare questi successivi valori di punti di massimo che corrispondono quasi vedete deve rompere questi questi valori per avere la conferma della tendenza di rialzo contro bitcoin quindi di forza contro bitcoin quindi ragazzi credo di avervi detto tutto quello che è più importante per quanto concerne il mercato del mondo delle cripto per quanto concerne invece l'oro vediamo una situazione di 2000 dollari che vengono ancora confermati la candela comunque settimanale vedete che la situazione a livello di valori di fibonacci si siamo mantenuti vedete comunque sia al di sopra del 38,2 per cento di fibonacci quindi eventuali ritracciamenti possiamo considerarli sicuramente positivi quindi sani vediamo se questo valore verrà confermato e se si muoverà praticamente per andare a rompere i precedenti valori di 2150 valore di picco relativo al periodo che stiamo valutando di fibonacci e quindi se dovesse romperli potrebbe andare anche oltre il prezzo per quanto invece riguarda il silver la situazione è praticamente un movimento laterale si sta muovendo praticamente utilizzando la media mobile come supporto dinamico assolutamente quindi questo è confermato per quanto invece riguarda l'euro contro il dollaro andiamo a visualizzare è un attimo beh che dire l'euro dollaro naturalmente si sta muovendo intorno a 1.08 non c'è molto da dire per quanto riguarda la coppia di valuta dell'euro con il dollaro andiamo a visualizzare naturalmente l'indice del dollaro americano quindi il DXY vedete come l'indice del dollaro americano mostra anch'esso un valore andiamo a vedere qui la situazione di fibonacci vedete che il movimento comunque è andato giù oltre il 38,2 per cento di fibonacci stiamo mantenendo intorno a 0,5 che questo anche se la strotto ha rotto ben una due tre quattro volte vediamo se la andrà a rompere di nuovo se dovesse andare a rompere il cento uno come valore che corrisponde praticamente a questo valore di supporto toccato una due tre volte se dovesse andarla ancora a rompere potremmo andare al di sotto dello 0,618 che potrebbe essere comunque il rischio perché rientriamo in dei valori più bassi ricordiamo che se non dal punto di vista strettamente macroeconomico e di fondamentali su tassi di interesse sulla situazione comunque di investimento della borsa americana c'è da dire che ci sono anche situazioni macroeconomiche in America che dovremmo comunque considerare prossimamente in quanto c'è un rischio abbastanza elevato di possibili problemi politici di guerra civile di stato di marziale negli Stati Uniti d'America come potete osservare trovandosi su youtube o sugli altri social ci sono diverse notizie che parlano della seconda possibile guerra civile negli Stati Uniti quindi questa è una situazione molto più grave di un eventuale responsabile di una federal reserve che dichiara o meno di aumentare o tagliare i tassi degli interessi qua ci sono addirittura 25 paesi guidati dal Texas che hanno abbandonato quello che dice la Corte Costituzionale come dipendersi da eventuali immigrazioni e quindi hanno rigettato il presidente Biden e si stanno muovendo in modo autonomo con la loro guardia nazionale quindi diciamo che la situazione è sul piede di guerra di 25 Stati contro la rimanenza che sarebbe la piddina partita democratica che si sta muovendo con Biden diciamo contro gli interessi dello Stato e contro gli interessi quindi questa situazione potrebbe incidere sicuramente di guerra civile o comunque di secessione per la stabilità del dollaro anche potremmo dire c'erano una volta gli Stati Uniti osserveremo questo perché potrebbe incidere il movimento del dollaro anche sulla situazione del prezzo dell'oro e di bitcoin quindi di tutto il comparto che potrebbe subire delle situazioni abbastanza gravi quindi non solo fondamentali di tipo tecnico e finanziario ma anche situazioni di macroeconomia e di geopolitica che potrebbero incidere soprattutto all'interno degli Stati Uniti spero che questo sia stato utile mi raccomando verificate voi stessi le informazioni che vi dico perché bisogna comunque informarsi non prendere per assodato tutto quello che vi viene detto e quindi vi ringrazio ancora per i vostri like e ci sentiamo alla prossima buon fine settimana e quindi vi ringrazio ancora per i vostri like